Bagno no, bagno sì, bagno forse. La bagnazione sul territorio regionale è rimasta un rebus fino a ieri. Poi il chiarimento dell'assessore all'urbanistica con delega al demanio. Si può fare, ha dichiarato Quirico Sanna, mantenendo il distanziamento sociale anche in acqua. Una dichiarazione che avrebbe bisogno però di una conferma del governatore Cristian Solinas, in forma di circolare esplicativa, ancora non pervenuta. Proprio il presidente della regione, lunedì, aveva smentito la possibilità dei bagni, in attesa di un protocollo del governo con le linee generali da adattare ad ogni territorio. Dopo un confronto con le regioni costiere, sempre secondo Sanna, è arrivato infine il permesso, che non risolve però un'altra questione spinosa, la sorveglianza delle regole anti-Covid. Ai gestori degli stabilimenti balneari è probabile tocchi l'onere di vigilare sul rispetto delle prescrizioni. Il discorso cambia per quanto riguarda le spiagge libere, la stragrande maggioranza nell'isola. Nel DPCM dell'esecutivo si consiglia genericamente la presenza di un addetto, la cui identità è tutta da definire. L'unica certezza è quella di non scaricare ogni responsabilità sui municipi, perché, come sostengono in regione, bisogna chiedere al governo risorse umane per i controlli, ma anche finanziarie, perché i comuni non possono e non devono affrontare una spesa senza avere le opportune risorse. Grazie a tutti.